Presentato già Vittorio alla prima edizione di Emaia Christmas Village, contenitore con tante iniziative ed eventi a cura dell'Emaia Vittorio. In primo piano stamani Wedding Expo, ossia un vasto spazio dedicato ai futuri sposi e soprattutto dieci consigli utili per organizzare un matrimonio perfetto. Domani sera in programma invece le sfilate, mentre tra gli eventi collaterali sta suscitando notevole curiosità e ancora in fase di allestimento la pista di pattinaggio su ghiaccio. Questo è stato per l'appunto l'inizio del nuovo corso, abbiamo realizzato quello che gli imprenditori ci hanno sempre detto, praticamente quando organizzavamo Camò che è organizzata già e puntuale per febbraio ci hanno detto che la sposa e la cerimonia, i nuovi modelli si presentavano a dicembre, tant'è che c'è tutta una provincia in fermento con diversi eventi. Quindi anche Fieremaia ha voluto cogliere il suggerimento degli imprenditori e creare un evento, non una fiera, un evento e spero che di questi ce ne dovranno essere tanti altri durante l'anno. È un evento settoriale, sposa cerimonia, dove si ha la possibilità, chi deve organizzare questo tipo di iniziativa può trovare di tutto all'interno di questa fiera, di questa cittadella feristica in due giorni. Tutti gli imprenditori hanno sposato questo tipo di evento che sono nel settore, quindi abbiamo agenzia di viaggio, abbiamo ovviamente gli abiti da sposa, ci sarà un momento di sfilata, di presentazione domani sera degli abiti da cerimonia oltre a quelli da sposa. Quindi diciamo che è un nuovo inizio per la Fieremaia, già dall'anno scorso lavoravamo con gli imprenditori su queste iniziative, ripeto ce ne saranno tante altre su diversi settori. A cornice di tutto ciò, anche oggi lanciamo il Natale, il Natale di Fieremaia, il Natale per la città, il Natale per i giovani, un Emaia Christmas Village così chiamato con un'iniziativa centrale, una pista di ghiaccio che per la prima volta è in città, anche se è una città calda a livello del mare, ma abbiamo creato tutte le condizioni per vivere un Natale all'insegno del freddo, del ghiaccio e dei pattini. Grazie a tutti.